Non hai proprio idea di dove cazzo deve andare, di come potete fare, se si tratta di mezzo nuovo il concetto dell'appicinamento al cibo. Scritto così, per favore, ancora, leggermente inizia, per esempio, scritto così. Scritto così. Questa era la tua posizione dove avresti dovuto fare, senza far l'inferenzione, sui due tirati di 360 gradi. Sei andato ovunque, vedete qui, adesso c'è 180 gradi a sinistra. Aspettiamo che finisce questo presto. Stop, dritto così. 90 gradi a sinistra. Si. Magari qui. Leggero col sinistro, poco. L'importante adesso qui, metti caso... ...la volare così. Continua, leggero col dentro, leggero col dentro, leggero col dentro. Massimo mi devo stare a sentire. Cioè non mi senti? Allora alza i freni completamente, sinistra 90 gradi, apri quel braccio, non lo tenere vicino a te, oh, sono stati 90 gradi questi?